Ciao a tutti cari amici della rasatura tradizionale e benvenuti a questo nuovo episodio. Io sono Riccardo e oggi ho preparato per voi un altro video unboxing. Scopriamo insieme di quale prodotto dopo la sigla. E rieccoci, rieccovi! Video unboxing, come vi ho detto senza darvi indizi. Sono felicissimo perché oggi è arrivato questo nuovo prodotto. Siete curiosi? Sì, vediamo, vediamo, vediamo. E voilà! Fatip lo storto gentile. Come sapete è da un po' che ho il suo fratello. Quindi il gentile nella versione classic, non slant. Ho visto che c'era questo storto e non ho potuto non prenderlo. Vediamo insieme la scatola come al solito. In primis bellissima, la vedete già, la fascetta che è stata messa storta, cioè è diagonale. Bellissima anche l'immagine dello storto e la scritta. Quindi si vede che Fatip ha pensato di andare veramente a creare con una buona azione di marketing tutta la linea. Quindi queste linee, la scritta, il rasoio, anche quello inclinato, come è inclinata, ripeto, la fascetta. Fascetta che in questo caso è liscia, mentre nel precedente era un po' più ruvida. Una cosa che noto è che direttamente qui c'è la testina gentile Closet Comb. Mi sembra che non fosse presente nelle precedenti versioni. Non voglio essere, non ne sono certo, ma mi sembra che sul Classic non c'era disegnata la testina qui. Vediamo, Made in Italy, premana, il codice dell'articolo, quindi il 49139. Rasoio di sicurezza Safety Razor. Ma non perdiamo altro tempo. Togliamo la nostra fascetta. Altra cosa ovviamente che è cambiata, l'avete già notato, è la scatola. Perché con il Fatip Classic la scatola è un azzurro chiaro con queste linee dorate. Andiamo ad aprirla. Non ho speso altro tempo perché le indicazioni sono poi le stesse che troviamo nel Classic. Quindi non perdiamo altro tempo. Andiamo a vedere. Wow! Wow! Guardate che bello! Bellissimo! Scatola anche l'interno in coordinato ma l'abbiamo già vista l'altra volta quindi non perderò ulteriormente tempo. Voglio vedere, voglio farvi vedere. Guardate che bello con queste scanalature. Guardate, guardate, mamma mia, ma oh, è bellissimo, eh! Guardate che giochi di luce che fanno le scanalature nel manico. Bello! Il nottolino come quello del fratello Classic. E la testina slant, guardatela lì, guardate come si vede bene. Quindi inclinata. Ve la faccio vedere di lato. Anche qui come nel Classic ci sono alcuni segni di lavorazione su questa parte della testina per coprilametta, ma nulla di che ricordiamo che è un prodotto artigianale. E anche qui, guardate come si vedono bene i denti, eh! Bellissimo! Bellissimo! Guardate il manico. Wow! La lavorazione è veramente, veramente splendida. Quindi le scanalature che nel Classic erano verticali andavano a formare una colonna, diciamo così, l'avevo chiamata, l'avevo paragonata. E mi sembra tuttora una colonna greca, una colonna romana, sono state stortate, quasi come se fosse stato preso lo stesso manico e fosse stato torto. Guardate ancora qui, guardate. Uno slant, direi, bello deciso. L'ho preso sempre nella versione Closet Comb, quindi con testina gentile. Andiamo a vedere. Se non erro erano... Allora, la vita era molto lunga nella versione classica. Andiamo a vedere. Un giro. Due giri. Tre giri. Quattro giri. Cinque giri. Sei. Sette. Otto. Non viene ancora. Nove. Dieci. Ok, eccolo lì. Dieci giri per svitare il manico. Dentro vedete il filetto, manico, vediamo se... Eccolo lì, vedete? Oh, come vi dicevo, il manico è vuoto. Riesco a farvelo vedere. Vedete il mio dito dietro? Bellissimo. Questo nella versione classic va a far suonare, va a far cantare il manico, soprattutto quando si hanno barbe un po' più lunghette, quindi di tre, quattro giorni. Non è funge, almeno per quello che mi riguarda, per quello che mi è sembrato, da una piccola cassa di risonanza o da un piccolo megafono, chiamatelo come volete, ma mi sembra che vada ad amplificare il suono che fa quando il rasoio va a radere. Vedremo, credo che, anzi, sono abbastanza certo che anche per questo modello sarà la stessa cosa. Gli ho lasciato un sacco di ditate accidenti, aspettate che... Ok, eccolo qui. Quindi la sua testina che... Vediamo se vista in questo modo... Sì, si nota, si nota. Si vede che è uno slant. Si vede bene. Testina gentile, denti pronunciati. Andiamo a togliere il coprilametta e lo guardiamo insieme. Guardie molto molto lunghe, vite molto lunghe. C'è questo, vedete, vicino al perno centrale, vicino anzi alla vite. Ci sono dei segni, che mi viene da dire che sono segni di saldatura, può essere? Eh sì, li vedete, guardate li li. Cosa che non mi sembrava di aver notato nella versione gentile. Mentre invece sui due cavalieri non vedo segni. Quindi, giriamo, e se riesco a tenerlo, giriamo. Adesso, forse qui c'è una piccola sbavatura, ma lo sappiamo. Allora, Fatip è un rasoio artigianale, quindi sappiamo che possono esserci questi piccoli segni. Sto pulendo dalle dittate anche il pettine, pettine gentile, ricordiamocelo. Gentile, quindi con la barra di sicurezza. Eh sì, si vede proprio all'inclinazione. Guardatelo lì, cerco di... Un bel rasoio, sono curioso di provarlo. Qui c'è il logo Fatip. Vediamo se riesco a zoomare ancora di più. Oppure... no, non gli piace. Ok, però lo vedete. I canali da utilizzare per pulire il rasoio durante la nostra sbarbata, la nostra rasatura tradizionale. Andiamo a rimontarlo. E andiamo a rimontare anche il manico. Girandolo per i suoi dieci giri. Come sapete, e come ormai vi ho detto e ridetto, ho anche la versione Classic. Sono curioso, ma credo di sì. Voglio andare a provare se possiamo invertire i manici. Quindi vado a togliere le due teste. Manici che... Credo che lo storto sia un po' più leggero del Classic. Mi sembra il Classic più pesante. È una sensazione, quindi non li ho effettivamente pesati. Se guardiamo, le dimensioni sono identiche. E quindi posso ipotizzare che la testina dello slant, quindi dello storto, vada bene, esatto, anche sul Classic, sul manico del Classic. Però, lasciamoli storti. Vediamo e prendiamo i due pettini per andare a compararli. Vediamo se riusciamo. Allora. Ciò che cambia è sicuramente questa parte. Quindi, come vediamo, quello sotto ha un'inclinazione, che ero storto, ha un'inclinazione diversa, più pronunciata da un lato e meno dall'altro. L'altro, invece, quello sopra, il Gentile Classic, è regolare. Quindi possiamo dire che questa parte è identica su questo lato, ma l'altra parte va, invece, a cambiare. Per quanto riguarda, invece, oltre, quindi, all'inclinazione, il numero dei denti, i denti e la loro posizione, è pressoché identica. Quindi andiamo a rimontare il nostro Fatip storto. Bellissimo. Guardate il manico che gira. Secondo me è veramente eccezionale. Dieci giri per chiudere il nostro Fatip storto. Rieccolo qui. Che dire? Bellissimo. Il mio primo slant bar. Quindi sono curioso di vedere la differenza che va a produrre l'inclinazione della lama, prodotta dalla testina, ovviamente, durante la rasatura. Dovrebbe garantire una rasatura molto più confortevole, in quanto con la lama inclinata l'effetto è quasi ghigliottina, diciamo così, per il pelo. Seguirà, farò uno speciale, una puntata tecnica in cui vado a spiegare la differenza tra un rasoio normale e uno slant. Quindi non perdetevela e continuate a guardare questi video. Direi che anche per questo bellissimo rasoio è tutto. Ho proprio voglia di andare a provarlo, scusatemi. Quindi non mi resta che ringraziarvi per essere stati con me. Ricordarvi di iscrivervi al canale, attivare la campanella e mettere un like se vi è piaciuto questo video. Invitarvi, se volete, a seguirmi anche sul mio profilo Instagram, rasaturatradizionale.it Trovate diverse foto di diversi kit da barba, prodotti per la rasatura, comunque tutto quanto concerne il mondo della rasatura con i rasoi di sicurezza. E vi ricordo inoltre che se volete leggere le recensioni, scoprire quali prodotti uso, cosa ne penso e quant'altro, potete anche visitare il mio sito web www.rasaturatradizionale.it Alla prossima sbarbata! Ciao! Ciao!